Il programma delle semifinali Da Cincinnati, il programma delle semifinali Al maschile, come detto, rivoluzione in corso, dettata dalle assenze e da alcune sorprese. Al femminile, in controtendenza con il recente passato, in semifinale le principali protagoniste. . Prima, seconda e quarta testi di serie ancora in corsa. K. Pliskova, n.1 del ranking da, si gioca oggi con Garbine Muguruza, regina Vimbledon, la prodo all'atto ultimo. . La cieca vanta un passato vincente con la Muguruza, se è un infatti il conto dei precedenti. In stagione, sigillo in Fat Cup e a Indian Wells. . 12 mesi fa, qui a Cincinnati, 61-63 Pliskova. Unici problemi, per Carolina, con la nostra Giorgi, brava a trascinarla al terzo. Tribolato a prodo in semi, invece, per la Spagnola. Due autentiche battaglie con Keise Kuznetsova. . La prima semifinale è in programma alle 17, la seconda alle 21, sempre sul centrale. La n.2 del tabellone, Simona Alepp, attende la variabile Sloane Stephens, video card pericolosa. . . Semifinalista a Toronto, KO con la Vodniaki, l'americana raggiunge l'impegno forte di un cammino sontuoso. Safarova, Kvitova, Makarova in successione, poi i quarti in carrozza con la Goerges. . 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